amici amanti degli anni 80 un pochino degli anni 70 sì perché a cavallo di questi due decenni che avviene l'apice della carriera agonistica di un pilota di noto di nome roberto agostini da non confondersi col plurititolato giacomo agostini ok già mi immagino le vostre facce ma non eravamo giocatori nel tempo qui sì vi confermo che siamo giocatori nel tempo e vi confermo che anche in questo filmato parleremo di giocattoli soprattutto giocattoli anni 80 ma è una storia un po' particolare un po' pazzerella una storia ancora una volta tutta italiana una storia che scopriremo assieme dopo la sigla dunque nell'incipit di questo filmato stavamo parlando della carriera agonistica di un certo roberto agostini ovviamente da non confondere con il più blasonato e vittorioso giacomo agostini però anche questo roberto con il gas ci sapeva fare ma ci sapeva fare anche con i terai in metallo e l'azienda di famiglia invece era specializzata ed è tuttora specializzata nella realizzazione di componenti in vetro resina per la nautica stiamo parlando appunto dell'agostini nautica appunto tuttora in attività ebbene dall'unione di queste esperienze di queste passioni il buono roberto decide a un certo punto a inizi anni 80 1982 1983 di aprire un'altra realtà imprenditoriale in parallelo con l'azienda di famiglia la agostini auto junior ovviamente già dalla denominazione auto junior si capisce che realizzerà riproduzioni in scala delle auto più famose in particolar modo delle super sportive italiane di quegli anni e le realizzerà in due scale 1 1,5 e 1 a 2 quindi come avete capito si tratta di automobiline destinate ai bambini età inferiore ai 12 anni che se possiamo fare un paragone con dei prodotti anni 80 90 simile alle peppergo che noi abbiamo conosciuto però una versione un po più grande e raffinata e costosa bene il catalogo di queste super cari in miniatura era qualcosa ovviamente incredibile la mia preferita indubbiamente risultava la riproduzione in scala della Lamborghini Countach ma protagonista di questo filmato è un altro modello la riproduzione in scala 1 a 2 della ferrari testa rossa denominata testa rossa junior protagonista di uno dei concorsi più folli e meravigliosi di tutti gli anni 80 che vede protagonista questa testa rossa junior i transformer generation one la jig che li importava ufficialmente in italia e eurotv che era un emittente che li trasmetteva in quel periodo dall'unione di questi brand nasce appunto un concorso dove il bambino nell'anno solare 1986 dovrà dimostrare di aver acquistato più confezioni possibili dei transformer originali appunto importati dalla jig per poi ritagliare tagliando che si trovava sul retro di ogni confezione transformers spedirlo alla casella postale specificata nel concorso e attendere il 10 febbraio 1987 per conoscere il vincitore di questo concorso perché appunto il vincitore si portava a casa una meravigliosa testa rossa junior dell'agostini auto junior le caratteristiche di questa vetturetta erano qualcosa di incredibile freni a disco sospensioni indipendenti impianto elettrico completamente funzionante cioè vuol dire le luci le frecce il claxon l'autoradio autoradio compatibile con le musica 7 la bellezza era qualcosa di incredibile voi direte beh stupenda macchinetta per bambini non so come come le nostre pepergo simpatica ma fra i 20 25 chilometri orari con un motore elettrico se avete pensato anche solo per un istante questo vuol dire che non avete vissuto negli anni 80 cioè gli anni 80 sono quel decennio in cui tanto per farvi capire quelle che noi conosciamo oggi come le vrc erano le gruppo b tanto per farvi capire quelle che oggi sono le formula 1 ibride con il cares erano le formula 1 dell'epoca turbo tanto per farvi capire quella che oggi noi conosciamo come la moto gp una volta era la 500 cioè moto di 500 cilindrata a due tempi prive di ogni elettronica che lo stesso valentino rossi descrisse come moto che non vanno dritte nemmeno in rettilineo ecco in questo contesto un ex pilota di moto secondo voi su una piccola vettura seppur destinata a bambini avrebbe messo un motore elettrico da 20 25 chilometri orari come velocità di punta ovviamente no ha messo un motore a benzina 4 tempi 330 di cilindrata cambio automatico a due velocità velocità di punta dichiarata 45 chilometri orari sì avete capito quella piccola vettura destinata da bambini di età inferiore 12 anni andava come la velocità massima dichiarata dal codice stradale per i cinquantini che noi avremmo usato a 14 15 16 anni e se voi pensate che quella velocità per un bambino era folle beh non sapete ancora tutto del catalogo dell'agostini auto junior perché in quel catalogo vi era un'altra riproduzione di un'altra ferrari famosa in una scala un po più grande come vi dicevo la 1 1,5 si tratta la riproduzione della ferrari 308 bene quella ferrari montava un 500 di cilindrata quattro tempi cambio manuale a tre velocità velocità di punta dichiarata 60 chilometri orari cioè io mi immagino la scena cioè io gas a martello con il garelli scassato di mio zio è un bambino di sette anni che mi passa 60 chilometri orari col ferrarino bacio fuori e dice uè barbone ancora col garelli dello zio cioè ma che che situazione è ma poi un'altra riflessione io non ho mai partecipato a quel concorso e quindi già vi dico che non sono stato il fortunato vincitore di quella ferrari ma ammettiamo di essere stato il vincitore cioè in quel periodo 1986 1987 l'auto di famiglia della mia famiglia era una fiat 500 l di seconda mano che era parcheggiata sotto casa perché non avevamo neanche i soldi per avere un garage quindi dove cavolo la metteva una ferrari seppur riproduzione lunga due metri e otto